Il broker della cocaina, in grado di far viaggiare ogni settimana 40 kg di droga tra l'Olanda e Milano, è stato catturato in Spagna. La Guardia Civil, messa sulle sue tracce dagli uomini della squadra mobile di Reggio Carabria e del Servizio Centrale Operativo della Polizia, lo ha bloccato a Barcellona. Giuseppe Romeo Upaccio Maluferro, come veniva soprannominato, 35 anni, latitante dal 2018, era inserito nell'elenco dei ricercati più pericolosi, stilata dal Ministero dell'Interno. La Polizia gli stava col fiato sul collo oramai da mesi, monitorando i suoi spostamenti tra San Luca, in Calabria e il Nord Europa. Era lui, per la DDA Regina, il promotore, l'organizzatore, il finanziatore dei traffici di cocaina gestiti dalla cosca Pelle Costa Dura Romeo, disarticolata nel dicembre del 2018 con l'operazione European Drangheta Connection. Un ruolo dunque di primo piano in seno al clan che gli consentiva di stringere accordi tra i fornitori di coca e gli intermediari in Belgio, Olanda e Germania. Su di lui pende una condanna a 20 anni di carcere per traffico internazionale di droga, trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio.